Basta alla vista ragazzi, sono sempre io, il vostro TheGamerT800, ragazzi, oggi impostiamo la destinazione sulla luna sempre Allora, l'ultima volta abbiamo fatto, vabbè, penultima volta al Tare di Oryx, poi abbiamo fatto la spara di Crota, fu l'ultima ragazzi, ve la ricordate? Se non ve la ricordate andate a vedere Beh, no, questo, senti, l'oscurità al profondo, è un po' troppo per il momento Direi di fare ragazzi, no, questo è troppo, questo è troppo, direi di fare questa qua ragazzi, Camera della Notte, storia, livello 9 Proviamo Ok ragazzi, direi di lanciare Vediamo Perfetto Allora, che ci dice? Trasmissione urgente in arrivo su tutti i canali, dall'oratore Niente è più importante ora Crediamo che l'alveare stia praticando un rituale atto a prosciugare la luce del viaggiatore Il potere che vogliono usare va compreso e distrutto Qui dobbiamo comprendere questo potere oscuro e distruggerlo? Questo è il che dobbiamo fare? Va bene Siamo pronti ragazzi, siamo carichi? Sempre Beh Cazzo si, dove cazzo si? Va bene Allora, scansiono le fenditure, manda lo spettro nelle fenditure della bocca dell'inferno Per mappare la fortezza dell'alveare e qualizzare la stanza del rituale Vabbè raga, due secondi di tempo che potenziamo qualcosa che non ho potenziato dalla scorsa volta Mi sa che avevamo avuto delle armi, mi sa, o primaria o secondaria Avevo visto una nuova icona di un fucile C'è questo, mi sa che era Questo qua Cos'è un secondo fucile? Vabbè, proviamo questo Questo è un mitragliatore, ci può essere utile E qua ce n'è un altro di questo Vabbiamo questo Equipaggio Equipaggiamo questo ragazzi, magari ce lo potenziamo un po' Come test, che ci dice? 135, forse 17 Forse 18 Vabbè, noi abbiamo questo Intelletto più 22 Forza più 18 Direi di mettere uno con forza Più 18 Vediamo cosa cambia Vabbè Forse pochissimo Vabbè raga, ok Qua, vabbè, niente di che Qua, niente di che Vabbè, sono cose piccole Piccolezze, piccolezze Vabbè, veicoli sono sempre quelli Noi che stiamo sempre a vedere qua Ok Vabbè raga Allora Vogliamo iniziare questa cazzo di missione? Iniziamola Allora Utilizzo veicoli, se no quando ci spicciamo più Proprio col super partiamo oggi ragazzi Siamo proprio in vena di giocare Eh, già siamo arrivati Che cazzo abbiamo preso a Falamuto? Ah, ok Che cazzo E che cazzo è? Che cosa devo fare? Cosa devo fa? Eh, evoca lo spettro Ah, ecco Vai vai Fai il tuo dovere Oh, bello quando fa così raga Mi piace di più Questa è una scansione Questa è una scansione Ok Vabbè, un'altra? Vabbè, non mi dico È purtroppo lontano adesso Ma do Sempre questo veicolo Devo usare Questo motore Ma quanto cacchio Mi piace il rumore Di questo Questa moto Del futuro Raga Futuristica Io mi faccio cazzi meno Mi metto in mezzo Alle vostre eliti Perché me ne potrei andare io Di mezzo E morire Quindi io per voi La vita non la rischio Come io mi faccio i cazzi miei Voi fatevi i vostri Quindi qua dovrebbe essere Che devo superare Sta zona Ah, no, no Da qua Ho visto, ho visto, ho visto Oh, di qua con la moto Un po' più scomodi Mi sa che ci siamo già stati Comunque di qua Sì, però devo fare Una cosa diversa Non devo conquistare Ma devo Evocare lo spettro Dai, tu evoca Che io devo sparare A sti bastardi Di merda Guarda che mi sta sparando Un attimo Ci sono Ah, eccolo Il figlio di puttano Il sandalo Che mi sparava Ma la vita Stava quasi per morire Non me ne era accorto Dove che stava Scende al tempio di Crota Per trovare la stanza Del rituale Dove l'alveare Sta assorbendo Nel giro Di viaggio della luce Va bene Quindi ha fatto Già la sua cosa Motore mio Partiamo Mamma mia Raga Certo Ecco Bazzi Che fa Sto Sto Motore Sono Fantastica Bello Che non si schianta Mai Solo quando è Troppo alto L'altezza Da cui ci buttiamo Allora Si fa Un po' Male Quindi di qua Dovebbe essere Si Ok C'è questa Grossa Cancellata Qua Mamma mia Ma non è qua Purtroppo Sarà qualche altro Tipo di missione Ah Di qua Dove cazzo È così Stiamo sempre Allo stesso Ponto Oh no Ah Ah no no È proprio un sentiero Raga È proprio un sentiero Che va così Ma qua ci siamo già stati Raga Vi ricordate Che ci siamo già stati Purtroppo è tutto un paesaggio Solo che dobbiamo fare Diverse missioni Ok Cioè quando si fanno Le missioni su questo gioco Non ci spostiamo In posti Diversi I posti Diciamo che sono sempre quelli Ah Porca puttana Non sapevo che ci fosse Ma porca miseria Raga Veramente Non sapevo che ci fosse Ok Non è niente Raga Può succedere a tutti Ok Se qua non si fa capire Manco dove cazzo Devo andare Fatti capire un po' Dove che devo andare Ah E di tutto è fatto Qualcuno cerca di stabilire Un contatto Deve essere l'oratore Senti io molto Ti lascio Perché non mi stai Di nessun aiuto Che sono queste trasmissioni Che non si sente bene Radio di merda Tempio di cruta Ci siamo già stati Ci siamo già stati Un miliardo di volte Ci siamo già stati Vado Avvicinito la porta Va bene Ok Che succede adesso Filmato Filmato sicuro Sicuramente Oh che bello Vediamo un po' Ma stiamoci belli belli Tranquilli Il mio personaggio Come da sotto Si vanta Perché è un figlio Della madonna È normale Sei interessante Ah Grazie Chi è? Infatti Chi è? Non lo so Perdo il segnale Guardiano So cosa stai per fare Sei coraggioso Ma ci sono nemici Qui che non puoi immaginare Qui dove? Infatti Spiegati E affronta l'alveare Se sopravvivi Cerca Segnale perso Le coordinate che ho sono vaghe Venere E mi spero nord Zona di Ishtar Che sta succedendo? Vediamo Bene Che cosa facciamo? Scendiamo Bravissimo Il mio personaggio Sa tutto Già Partiamo in guerra Dai Partiamo in guerra Uccidere l'alveare Uccidiamo sto cazzo di alveare Super caricata Benissimo Buona notizia Oh merda Orco No Stimo con sto orco Di merda Uccidiamo prima lui Oh Ucciso Usiamo questa arma nuova Raga Che promette veramente bene Però abbiamo pochissimi colpi Non ne abbiamo tanti Ok No Non va bene da lontano Questa arma Ok Dai Andiamo di qua Raga Ok Eh muovi Ti muori Porca Puttana Ti fai perdere tempo Inutile Ok Ok Vi ricordate ragazzi Che anche qui ero morto L'altra volta Per colpa della maliarda Di merda Qualche vola Vi ricordate Ok Mi sa che qua di nuovo No Dove devo andare Perché mi dici che devo andare dritto Forse sotto devo andare Ah E infatti Qua sotto non c'ero stato Sinceramente Oh Eh porca puttana E voi morite Oh Quindi è qua Andare Oh raga Qua non c'eravamo stati Sicuro Qua non tenero mai venuto O se Ma non mi ricordo più Sinceramente Talmente sono semi Di poste Zombie di merda Schiavi sono Io lo sapevo Oh merda Qua ci dobbiamo lanciare Che cazzo è successo Un bug Si sono incastrati nel cemento Allora Io direi Fino a questo Caricastarma Di merda Cioè È bella Però Ci vuole tempo Oh Questi sono efficaci Contro la maliarda Beh raga Potenzialmente Sbloccato Ci siamo La super Super Per il mio 8800 Che sarei io Ho generato Due sfere di luce Benissimo Mamma mia raga Ancora sto così Sesta Adirittura Quanto di sto casino Guardi è andato Un casino di potenzialmente E basta Oh Ti spacco il culo Ti faccio andare in aria Ok Ok raga Direi di andare Che c'è il vomito Tu che c'hai La febbre Oh merda Che cazzo è volato Oh Bene raga Questa Bellissima A me se si bruciano Volano Munizioni primarie Munizioni primarie Al completo Carichiamo Ok Va bene Ok Vabbè lo schiavo Non serve a un cazzo Ormai Sappiamo che non serve a un cazzo Ok Andiamo raga La tomba del mondo Oh no Rientro limitato Raga che cazzo Cos'è quello Cos'è quello Cos'è Me lo dovete dire Mi dovete spiegare Non potete farmi fare le cose così Ma oh Oh no 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 Non abbiamo capito niente Qua no Non va bene Cos'è Ne voglio di più di nemici Non di meno E se no qua non c'è divertimento Raga giusto No 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 Voi non avete capito un cazzo qua Perchè non posso prendere le armi dagli altri Solo le munizioni Maliarda di merda Ma perchè ti muovi sempre Mi dispiace Devo andare Devo andare Ragazzi Questi mi ammazzano Ecco Sapevo io Sapevo Rientro limitato Porca puttana Quindi vabbè Ho iniziato di qua C'era una specie di checkpoint Rientro limitato Giustamente Vabbè raga Ci può stare Non vi nascondo Che si può perdere Sto gioco Ma porca puttana Mi sono auto ucciso Raga ma porca miseria Vabbè Ok Vabbè dai Intanto ripartiamo sempre di qua Non è niente Non è niente E questo è il problema Perchè mi sparano un casino di persone a secondo Ma quando Ma maliarda di merda Dove cazzo Si sento delle gride Delle cose Ah Ok Due sistemate Ma maliarda Te le devo uccidere Con la cazzo di maliarda Ok Fatta da lontano Raga Mamma mia Ok 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 Che cazzo è che mi butta le bombe di merda Ancora sti bastati Oh Ti spacco la faccia Brutto schiavo di merda Questi sono quelli che usano i poteri Quelli che mi stanno più sul cazzo Qual è il cavaliere di merda E se noi prendessimo l'arma gigante che abbiamo E gli facessimo il culo No No con questo non la uso Cucu Gaa Gaga Ok Andiamo C'è qualcuno che vuole essere fatto fuori di qua Mi sa che di qua dobbiamo andare Così ho capito La più oscura tra tutte le sale dell'Adeale Ah meglio Si aprirà sta porta Si si è bello raga In tre si apre Meggera Sifone Eh ti uccido Non mi fai paura Che sto innamorando la merda Cazzo è che mi sparo Mi sento sparare da tutte le parti Chi è? Nooo no 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 Oh no 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 Gli schiavi no Sono i più fastidiosi questi Ti gridano pure contro Dai porca merda Porca merda Aspetta Io prendo l'arma finale Vi faccio il culo eh Fatemi un attimo Riprendere Fatemi un attimo Riprendere Che ne dici se uso questa per fare il culo? Eh Capito come vi smontate tutti Quando uso questa Solo che finiscono subito le munizioni Purtroppo la devo usare raga Tu non ti nascondere Dai dai Un po' di munizioni ce l'abbiamo Di queste Ok un po' di nemici stanno ancora Boh Che devo fa? Ah Se mi dà il tempo Ma devo fare così? Oh Ma questi continuano ad arrivare in massa Ah Questo c'è il vomito che esplode Ho capito No vabbè raga Un casino Dalla madonna Veramente Un casino Ah Non devo fare niente Devo solo uscire di questi bastardi Quindi faccio prima che rimango qua E controllo tutta la situazione da qua sopra Cioè ti scarico un caricatore addosso Tu non ti fai un cazzo Dai Oh Ok Mi sa che No non abbiamo ancora finito Oh no 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 Cos'è questo grido? No No Già mi preoccupa raga Già mi preoccupa Ecco sapevo io cos'era Oh Ci diamo tutti sti peccoli Che poi non è neanche tanto qua Il non nato Tu non sei mai nato? Perché sei un cesso? Ecco perché non sei mai nato Ecco C'è il cervello di fuori pure La tomba del mondo ragazzi Analizzi il frammento Che devo fare? Dove sta' sto cazzo di frammento? Eh va con lo spettro Ok Ok Fa' cose tutte sue che non capisco sinceramente Eh lo chiedi a me Ma che ne so? È un frammento del viaggiatore Ah Oh bello Si accende Tutti questi colori gialli qua Lo usavano contro il viaggiatore stesso E divoravano la luce Ma ora non più È tornato a casa E la nostra nuova amica ha detto che su venere ci sono nemici peggiori di questi Oh merda Ah merda Si prospetta proprio bene la cosa Mamma mia raga Fine missione Missione completata Camera dalla notte Secondi rimanenti 26 24 23 22 21 Vabbè non è inutile che li stiamo a contare Tanti sa che Vabbè che dobbiamo vedere qualcosa in giro qua Che vediamo Ci sono delle cose da prendere Giusto che finiamo un po' La zona Ah vabbè Abbiamo ucciso tutti ragazzi Silenzio assoluto di morte Perfetto C'è più nessuno Ok Perfetto Va bene ragazzi Ok Vediamo un po' Ricompensa Attività Mamma mia Ci sono i 105 uccisioni Mi sembravano molte Uccisioni precise 14 3 morti Vabbè ci può stare Sto facendo 5 uccisioni Ricompensa Vabbè Saranno due potenziamenti Va bene ragazzi Io direi che l'appuntamento di oggi Può finire qua Mi raccomando Lasciate un like Condividete Iscrivetevi Se non siete iscritti Mi raccomando Alla prossima